Salve a tutti, sono Marco Campanella e come da tradizione, diciamo che appena il secondo anno è questo canale aperto, quindi vabbè, l'anno scorso, il 2021, l'abbiamo fatto. Quest'anno lo rifacciamo nuovamente, oggi assegniamo il The Best Sfidozzo del 2022. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, se mettete la campanellina e se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su e soprattutto seguitemi sulla pagina Instagram perché questo video è frutto proprio di un sondaggio che ho lanciato in una delle tante storie che faccio tutti i giorni. Pochissime regole, la prima è sono tutti Android, la seconda è sono tutti, o quelli che vi citerò, sono tutti smartphone che ho provato e ho portato sul canale. La terza regola è che a differenza dell'anno scorso, quest'anno ho introdotto delle altre categorie. Ma partiamo a bomba perché i punti da vedere, i premi sono 8, prima di arrivare all'ottavo, che è l'ultimo, è trovato alla fine del video, quindi se volete schippate, no, andate, guardatevelo tutto. Prima di arrivare alla fine del The Best Smartphone 2022 ci saranno delle altre categorie. Ho inserito la prima, visto che sul canale, come state notando, sto iniziando a parlare sempre più di applicazioni, ho voluto inserire proprio il premio della migliore applicazione. Per passare poi al miglior smartphone, anzi non smartphone, migliore UI, quindi sistema operativo degli smartphone, per poi arrivare alla parte quella vera dello sfidozzo, perché sapete che io gli sfidozzi li faccio e lo sfidozzo vero è foto e video. Quindi assegneremo i due smartphone che si aggiudicano la parte di miglior camera phone, miglior smartphone, appunto per fare girare i video. E subito dopo faremo la solita scaletta partendo dal miglior smartphone, miglior rapporto qualità-prezzo. Vedremo il miglior medio gamma, il miglior alta gamma, quindi non necessariamente i pro, quelli che stanno in una via di mezzo, per poi andare ai top di gamma e chiudere in bellezza con il migliore dei migliori, in assoluto. E partiamo subito con il premio della The Best App. Diciamo che in shortlist, fra le tantissime app che ho sperimentato durante quest'anno, ho approfondito perché magari le conoscevo da prima, e diciamo che sul podio delle prime tre abbiamo, io posiziono Sparkmail, che è un client di posta veramente molto molto potente, posiziono Canva, che è il mio strumento di fatto che mi dà la possibilità di editare, di creare, di poter creare i contenuti che solitamente vedete, le copertine, ad esempio di questo video, e ultima ma non ultima in classifica, EMPASS, che è un, diciamo, un hub per la gestione delle password. Sono tutte, sono delle app che uso da tanto tempo, ma che ho, diciamo, col tempo approfondito e imparato a conoscere sempre meglio. Fra l'altro sono tutte e tre app che girano con tutti i sistemi noti, quindi non soltanto con Android, ma anche con iOS, piuttosto che col Mac o col PC, quindi, diciamo, sono delle piattaforme che per me sono diventate fondamentali. E voglio premiare con un pizzico di punteggio di stelline in più, proprio Sparkmail, perché Spark, diciamo, è il client che ad oggi è riuscito a soddisfare, considerate che io ho circa una quindicina di caselle di posta, chiaramente fra negozi e amministrazioni, c'è tutto lì dentro. E devo dire che Spark, nonostante sia da pochissimo diventata premium, abbia una versione premium pro, comunque garantisce un servizio veramente di altissimo livello, cioè molto, molto meglio rispetto a tantissimi altri client di posta. Molti di voi della community mi avete scritto indicandomi altri client di posta, che sto iniziando a sperimentare, però capite bene che è una cosa un po' delicatina, però il premio per la migliore app, così introduciamo qualcosa che in quest'anno 2023 inizieremo a trovare sempre più spesso, l'assegno ha proprio a Sparkmail. Quindi, dall'app passiamo a il motore di tutti questi fantastici smartphone, e quindi la UI. Ho avuto modo di poter provare, di poter vedere in questi due anni, due anni e mezzo, lo sviluppo di tante UI. Mi faccio riferimento ad esempio alla ColorOS di Oppo, dove c'è stato veramente una crescita esponenziale, piuttosto che, visto il consolidarsi della One UI di Samsung, ma potrei citare anche Xiaomi, piuttosto che banalmente anche Huawei con la sua UI, la UI proprietaria. E ho avuto modo, quest'anno diciamo, a differenza di tanti altri anni, di iniziare a assaporare, a cercare di capire quella che invece è Android Stock, quindi la UI di Pixel. E ne ho parlato di tutte queste cose, trovate tutto su tanti video, tanti approfondimenti sul mio canale. Così come la UI di Notting Phone, in questo caso, piuttosto che quella di Motorola. Il video deve essere molto, molto veloce, quindi non mi soffermerò tanto sulle singole UI. Quella che, secondo me, continua ad essere oggi, nonostante i grandissimi sforzi e i passi avanti da parte di tutti, quella che personalmente è la migliore, cioè quella che offre veramente tutto in maniera verticale e orizzontale, continua ad essere la UI di Samsung, che è passata alla One UI 5.0, e fra l'altro con a bordo Android 13. Diciamo che Samsung, sotto questo punto di vista, si vede proprio che ha fatto degli investimenti molto importanti, sia in termini di sviluppo, sia in termini di efficacia, perché rispetto alle One UI, che è l'esperimento da tantissimo tempo, sono riusciti a rendere sempre più snella, pur sempre ricca zeppa di contenuti, di funzioni. Comunque sono riusciti a mantenere sempre snella e a far girare sempre meglio questa One UI. Ho avuto modo di sperimentarla non soltanto con i top di gamma, che parlo con l'S22 Ultra, ma l'ho sperimentata anche con altri smartphone, ad esempio l'S21 Fan Edition, e devo dire che i risultati cambiano poco. È chiaro che la One UI ha bisogno, come si sa, di un bel motore di ottimo, di una scheda tecnica molto molto performante, però tutto sommato devo dire che il gioco vale la candela, cioè quello che offre è veramente di un altro livello. Io spero sempre che ci siano le evoluzioni sul mercato, come dico spesso a molti di voi, perché questo aspetto di questa competizione sana non fa che migliorare la scelta per tutti noi, quindi ho visto che la ColorOS è migliorata, che tante UI sono migliorate col tempo e spero che continuino a migliorare. Ognuno con una filosofia e una politica di differente, per fortuna questo è importante. Quindi quello che abbiamo oggi è l'imbarazzo della scelta. La UI però mi sentivo di premiarla proprio perché oggi la vera differenza fra smartphone, soprattutto di media alta gamma, la fa appunto il sistema operativo, cioè la fluidità e come funziona e quello che ci possiamo fare. Adesso passiamo ai due premi che sono il vero oggetto dello sfidozzo, cioè quando io faccio gli sfidozzi sapete benissimo che confronto la parte foto e video degli smartphone e di sfidozzi sul mio canale ne potete trovare a non a centinaia, ancora no, perché il canale è aperto da non troppo tempo, però chi mi segue e se non lo fate mi raccomando seguitemi perché ci saranno soprattutto in questo 2023, ci saranno tantissimi contenuti, anche nuovi contenuti che porterò, grazie soprattutto alle indicazioni della nostra community che ha fatto un bel balzo in avanti in questo 2022 e spero possa continuare a crescere e soprattutto arricchendosi dei vostri pareri, dei vostri commenti, dei vostri feedback, perché se alla fine oggi c'è tutto questo è grazie soprattutto a voi che mi sostenete in tutti i video. Detto questo quindi vi dicevo che i propri due aspetti fondamentali dello sfidozzo sono appunto foto e video. Allora per quanto riguarda le foto mi sento di mettere sul piano dei best camera phone, chiaramente S22 Ultra che sarà presente su diverse categorie, aggiungo l'OPPO Find X5 nella versione Pro e fra l'altro quest'anno lui ha inserito il doppio processore, il Mary Silicon X e devo dire che questo tipo di evoluzione è stata forse la rivoluzione più grossa in ambito di foto e video e ci affianco, che non ce l'ho qui perché non è stato un amico, mi doveva ritornare in questi giorni, ancora non me l'ha dato, il Pixel 7 Pro. Alla fine mi sento di, diciamo, premiare come best camera phone, dare il punteggio più alto a S22 Ultra, più che altro perché se con l'OPPO mi era piaciuta, mi piace di più, diciamo, la singola lente, da te per vedere gli sfidozzi, esempio la lente standard, piuttosto la grandangolare. S22 Ultra, diciamo, è in, su questo panorama degli Android, mi sembra quello più completo su tutte le lenti, con la periscopica, diciamo, una pasta colore, preferisco un po' più quella del Pixel perché è molto più realistica, però diciamo che anche lì Samsung ha proprio una politica molto chiara, io faccio una foto, non ho bisogno di sbattermi, di rieditarla, ha quei colori che sono un pizzichino accessi, ad esempio il Find X5 Pro è una giusta via di mezzo perché non è troppo bustato, però non è nemmeno così in nature che devi comunque rendere, soprattutto se lavori sui social, rendere una foto un attimino più bellina da far vedere, e quindi devi andarla a ritoccare, però nel complesso sostengo che S22 Ultra sia la scelta migliore. Passiamo alla parte legata ai video e in questo video, come sapete, si parla di Android, quindi diciamo iPhone che onestamente, avendolo, perché sapete benissimo che io utilizzo più smartphone, e iPhone è uno di questi e avrei onestamente votato per l'iPhone, perché sui video iPhone continua ad essere il migliore, il benchmark in assoluto. Entra di pieno diritto il Samsung S22 Ultra, seguito dal Pixel 7 Pro che sui video mi è piaciuto tantissimo, e qui ad esempio il, non lo vedo, eccolo, lo Xiaomi 12 Pro, secondo me entra non a livello degli altri due, però fa molto molto bene anche lui, soprattutto con la stabilizzazione mi è piaciuto tanto sulla lente standard, mentre le altre lenti non mi sono piaciute tantissimo. Secondo me fra il Pixel 7 Pro e l'S22 Ultra ci sono un po' due scuole di pensiero, io forse perché, diciamo nella mia valutazione, ho trovato un video per cui poi alla fine ho scelto lui al posto del 7 Pro, quindi non spoilerò nulla perché il video è già di qualche settimana fa, di qualche mese fa, lo preferisco perché, così come per le foto, lui era il più duttile, anche per i video lui resta quello, diciamo, più duttile di tutti, quello che ha la selfie cam, una selfie cam che funziona veramente veramente bene, e le camere, quelle standard, la grande angolare che funziona molto bene, diciamo che in notturna soffre un pochettino, però è quello che secondo me si avvicina di più all'iPhone e al risultato che porta iPhone, non è ancora a quei livelli. Quindi il miglior smartphone, quello che userei io, di fatto uso io per girare i video, le clip, delle robe veloci, lo assegno proprio all'S22 Ultra. Il best rapporto qualità-prezzo. Allora, qui abbiamo tantissimi smartphone, io ho avuto un modo di provare la serie A di Samsung, ho avuto un modo di provare, riprovare nuovamente, la serie Xiaomi, la serie 11 e anche la serie 12, le versioni Lite, sapete benissimo che il Mi 11 Lite New Edition l'anno scorso era stato premiato da me come smartphone, come best smartphone e rapporto qualità-prezzo, è un smartphone che ho da sempre consigliato, proprio perché faceva tutto bene, però quest'anno, e paradossalmente, questo voto va a oggi, con tutte le rimodulazioni del caso, eccetera, eccetera, secondo me il miglior smartphone rapporto qualità-prezzo è il Notting. Il Notting Phone che è partito con una base prezzo molto alta, pur dando tutta una serie di future che non troviamo su, diciamo, i pari in medio gamma, perché lui di fatto è un medio gamma, medio-bassa gamma, ok? Non è paragonabile, ad esempio, con S22, è più paragonabile con un Realme GT, piuttosto che è paragonabile come, diciamo, scheda tecnica o un S21 Fan Edition, forse no, un A53, un Oppo, il Find X5 Lite, il Reno, nemmeno il Reno 8 Pro, ma il Reno 8 che presto vedrete, sto girando, ho già girato, lo devo mettere sul canale, il nuovo Reno 8, è più quella categoria, però la differenza, secondo me, la fa che in questo momento a un prezzo di 350 euro, portate a casa uno smartphone che deve piacervi, e io continuo a ribadirlo sempre, deve piacervi, ma un concetto, una filosofia, che non c'ha nessuno di tutti questi smartphone. Ripeto, deve piacere, perché non mi voglio dilungare, perché poi sembra un video, questo potrebbe sembrare un video sponsorizzato, Notting non mi paga, per fare questo genere di video, questo smartphone l'ho acquistato ai tempi, quindi posso garantirvi che, quello che vi dico, è veramente, come ho sempre fatto, è veramente una sensazione personale, l'avrei potuto stroncare, molto probabilmente allinearmi a tutti gli altri miei colleghi, che oggi mi sento di dire, forse non hanno compreso appieno la filosofia, o magari io mi sono lasciato prendere dall'AIP, però ormai sono sette mesi, otto mesi, e lui, come vedete dal mio canale, è sempre saldamente nella tasca dei miei pantaloni, e quindi lo utilizzo in maniera, cioè lo utilizzo e sono molto molto soddisfatto di utilizzarlo e di utilizzarlo appieno, quindi quest'anno mi sento di premiare, forse era scontato, però mi sento di premiare il Notting Phone 1, come il miglior smartphone, rapporto qualità prezzo ad oggi. Best Mediogamma, e qui diciamo che lo scenario si apre tantissimo, ho esordito quest'anno, l'inizio dell'anno con l'S21 Fan Edition, che è uno smartphone perfettamente allineato in medi gamma, uno smartphone strariuscito, chi mi segue sa che con le promobomba ne abbiamo stravenduti una vagonata, e devo dire che tutti voi che l'avete acquistato avete sempre espresso dei pareri molto molto positivi, allineati a quelli che erano i miei, in questa categoria metto, secondo me c'entra di diritto il Realme, il GT2, non le versioni Pro, non il GT2, che mi è piaciuto, ho dato anche lì il link in descrizione, inserisco il Reno 8, chiaramente il Notting Phone, e c'è anche il Find X5, nella versione Lite, e secondo me, anche se è uno smartphone uscito esattamente un anno fa, perché sono stato uno dei primi, diciamo al gennaio, a portarlo sul canale, secondo me l'S21 Fan Edition, è di fatto il miglior medio gamma di questo 2022, è uno smartphone assolutamente equilibratissimo, che ha preso il meglio della versione S21, e chiaramente non ha la qualità costruttiva di un S21, di una serie S21 o S22, però è uno di quegli smartphone che, secondo me è stato, spero facciano una Fan Edition anche dell'S22, diciamo sarebbe dovuto uscire, ora non ho, Rumors dice che non uscirà, però diciamo che per me lui resta il miglior medio gamma, intanto scrivetemi sotto nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate. Adesso tocca assegnare il premio a smartphone di alta gamma, e per alta gamma sono tutti quegli smartphone che appartengono alla serie S22 di Samsung, alla serie Find X5 di Oppo, alla serie Xiaomi 12 appunto di Xiaomi, non mi sento di aggiungere altro perché ad esempio OnePlus li ho provati veramente poco, Google Pixel secondo me il 7 Pro è nella categoria dei Pro, dei top smartphone, nonostante il prezzo. e diciamo poi altri Vivo me ne chiedete io, caro signor Vivo, signora Vivo, datevi uno smartphone perché qui tutti me lo chiedono e io lo vorrei portare. Motorola De Saparesidos, l'ultimo Motorola mi avevano dato il Razor, nemmeno l'ultimo, il primo, poi finito, mi piacerebbe portarli, quindi se me li mandano a un posto ragazza compra 150.000 smartphone, quindi devo fare con quello che c'è a disposizione. Chiaramente se noi cresciamo e il canale aumenta, qualcosa arriva, poi tanto sapete benissimo che per me uno l'altro non cambia nulla, la mia politica è quella e io consiglio a voi esattamente come faccio all'interno della mia bellissima Bottega Tech di Lucca. Ma bando alle ciance, il premio, diciamo i tre, che mi sono piaciuti, che mi sono piaciuti, di fatto rappresentano il Loppo Find X5, anch'esso con Mary Silicone X e con la Hasselblad montata, l'S22 nella versione, questo, l'S22 nella sua versione standard, mi è piaciuto tantissimo, è lo Xiaomi 12, qua, lo Xiaomi 12, diciamo sono questi smartphone che poi rappresentano, sono i diretti competitor del esempio di iPhone 14 e di questi, diciamo che lo Xiaomi 12 avevo delle aspettative altissime, secondo me con lo Xiaomi 11 Xiaomi aveva fatto un grandissimo risultato, diciamo lo Xiaomi 12 non è stato in grado di spingersi e di fare questo netto cambiamento, diciamo che la stessa cosa è successa anche con S22 che è uno smartphone che per riguardare le dimensioni mi piace tantissimo, è lo smartphone, è lo smartphone più maneggevole che ho, diciamo della mia sfilza di smartphone che utilizzo, ha delle camere eccezionali, nota negativa la batteria, ma questo diciamo è il tallone da Achille che di fatto affligge, è gran parte tutti i Samsung. Quindi per questa edizione voglio premiare come miglior medio gamma proprio Oppo nella versione 5, Find X5, quella normale che onestamente mi è piaciuto pure di più del fratello maggiore Pro, perché lo vedevo più bilanciato, soprattutto è posizionato meglio anche alla data d'uscita. Per le caratteristiche, ripeto, vi riporto sotto a tutti i video che ho fatto, ne trovate più disparati. Lui, la cosa che mi è piaciuta tanto è un po' perché ha saputo raccogliere l'enorme lavoro fatto, secondo me, dalla serie Find X dalla 3. Lui però, pur non avendo lo stesso processore del 5 Pro, eccetera, eccetera, comunque gira benissimo. Non è un battery phone, ma, diciamo, che ha queste funzioni fighe, le funzioni fighe, Hustle Blood, Mary Silicon X, eccetera, che sono state introdotte qui. Secondo me, lui è il miglior smartphone di alta fascia per me, personalmente. Fatemi sapere cosa ne pensate, eccetera, eccetera, mi raccomando, niente fanboy, cerchiamo, cerchiamo, datemi il parere perché a me interessa, mantenendo sempre, no, un minimo di educazione. Quella ve la raccomando sempre. Adesso, e prima di definire quello che è stato il miglior smartphone di questo 2022 per il sottoscritto, passiamo al Best Alta Gamma e anche qui si ripropone il ls22 Ultra che, diciamo, è presente in tutte le categorie, chiaramente, ma perché l'ho usato tantissimo. Si affianca a lui il Pixel 7 Pro che è uno smartphone che mi è piaciuto tantissimo e io lo continuo a ribadire. Secondo me non l'ho capito e non l'ho capito a fondo, ok? Quindi, ammetto il fatto che qualcuno di voi possa... Cioè, forse ci è rimasto pure male come mi avete scritto, eccetera. Ci sta che non l'abbia capito, io non è che posso capire tutto, no? Ce la metto tutta. Diciamo che evidentemente mi sono preso del tempo, ho bisogno di metabolizzarlo, metabolizzarlo meglio. Come sapete, non l'ho dato via, quindi lo continuo a utilizzare. Diciamo che ancora non mi è venuta quella cosa di ora lo riprendo in mano e spippo, lo cerco di capire. È normale, ci sta. Quindi, il Pixel 7 Pro che entra di diritto perché è giusto, perché poi effettivamente è uno smartphone equilibratissimo e funziona stra bene e che po' l'antitesi dell'S22 Ultra. In mezzo, che qui però non ce l'ho, metto l'Honor Magic 4 Pro come top perché non mi aveva entusiasmato, ok? Vi devo dire la verità. Ultimamente però mi è capitato di riprenderlo in mano per fare determinate cose e devo dire mi è piaciuto, mi è piaciuto perché ci sono stati degli aggiornamenti, l'ho trovato diciamo fa virgolette meno cinese del solito. Detto questo però il premio io mi sento di darlo a lui che è lo smartphone che mi accompagna e mi ha accompagnato ormai per un anno perché ora a febbraio presenteranno il nuovo perché sapete benissimo lui ecco ve lo prendo nella mia versione originale lui è per me una macchina da guerra una macchina che mi da mi ha dato tantissimo mi da tantissimo soprattutto a livello di spippolamento quindi scoprire nuove cose avere nuovi punti di vista delle applicazioni come poter riprogettarlo a livello di design dell'interfaccia e la S-Pen cioè la S-Pen raga è un senza molto probabilmente lui è il il mio smartphone preferito di questo 2022 e ci metto dentro anche l'iPhone decisamente preferisco lui e mi sembra abbastanza ovvia ed è deducibile la mia scelta su quale sia lo smartphone per me il miglior smartphone di questo 2022 è che appunto S22 ultra io mi auguro che questo video vi sia piaciuto mi auguro che fatemelo sapere sotto nei commenti intanto se vi è piaciuto chi avreste voluto vedere e chi avreste voluto premiare mi raccomando sempre con garbo rispetto se questo video vi è piaciuto e mi auguro di sì se me l'avete chiesto voi su Instagram sulle storie su Instagram e anche in privato quindi iscrivetevi su Instagram mettete un pollicione in su appunto a questo video e ragazzi che dire 2023 sarà un bellissimo anno secondo me un bellissimo anno e ci vediamo al prossimo video fantastico video ciao ciao